Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 21 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Simpatica la luna d'aria, ma che spendacciona. Ripensando al piacevolissimo weekend appena trascorso non potete recriminare sugli svaghi, i piaceri che vi siete concessi e neppure sulla compagnia, simpatica, intelligente, stimolante. Stamani, sostenuto dalla luna acquariana, il pensiero corre ancora a quel che avete fatto e con chi, qualcuno che vi è piaciuto particolarmente stimolando le vostre fantasie proibite, particolarmente ricettive ora che avete venere nel segno. Solo verso sera, dopo una giornata impegnativa sul lavoro, realizzate che quei due giorni sono stati davvero gratificanti ma anche piuttosto costosi, sia in termini pecuniari, il sole e marte in seconda casa parlano chiaro, sia di energia e di tempo, e qui a parlarvi sono i loro dirimpetta e Giove e Urano. Così sul far della sera, col passaggio della luna in sesta casa, capitanata da Saturno severo e sparagnino, realizzati di aver bisogno di uno stop per riprendere forze e tornare padroni del vostro tempo. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigie malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. I nati tra le 11 e le 22 di venerdì potrebbero ricevere uno spavento o una forte preoccupazione. Sappiate essere prudenti e accertatevi di tutto ciò che è la vostra sicurezza. Venere e luna sapranno donarvi oggi dei momenti incantevoli, soprattutto in serata, a patto però che voi comprendiate l'enorme importanza di sgombrare il vostro cuore dalle macerie del passato. Amore e pazienza, ecco un binomio che dovreste prendere in seria considerazione se volete ottenere il massimo da una situazione che si è venuta a creare di recente. Oggi una persona vi aiuterà a nutrire ancora più dubbi di quelli che avete. Siete sicuri di tutto ciò che pensate? Confidatevi con persone estremamente riservate e solo e soltanto se davvero non ne potete fare a meno, tenete per voi progetti e idee. Qualcuno potrebbe rubarvele. Non abbiate nessuna chiusura verso chi, da un passato anche lontano, cerca di farsi nuovamente vivo. Potrebbe avere delle cose interessanti da raccontarvi. Scegliendo un nuovo profumo o un eaudetto ilette, abbiate cura di non rivelarlo a nessuno, il mistero che vi circonderà sarà un ulteriore elemento di fascino che farà cadere ai vostri piedi le persone che vi interessano. Chiarimenti in arrivo, ma sarà dura comunicare le proprie ragioni e fare sì che vengano riconosciute. Oggi sofferenze in amore e possibili screzzi con il partner o con la persona che vi sta a cuore, se sentite il fuoco della passione spegnersi lentamente allora è proprio venuto il momento di rivedere e riconsiderare il vostro rapporto. La razionalità logica una delle migliori qualità di cui lo zodiaco vi ha adotati, vi consente di non avere oggi particolari scosse e di prendere il meglio che potete dai transiti positivi attuali. Perché la previsione astrale odierna riunisce elementi positivi ad altri lievemente contrastanti. Che bellezza iniziare la settimana con una frizzante luna cuvariana, segno d'aria intrigono al vostro. Probabilmente i guadagni non saranno granché, ma quel che vi importa non è la pecunia, piuttosto le buone relazioni con gli altri e i progetti destinati a realizzarsi e a prendere piede più in là. Lo stesso vale per gli investimenti, protetti da Giove e da Orano in ottava casa, quella dove qualche segreto però rischia di sfuggirvi, solleticato dalla pugnace coppia sole-marte, che non ha paura di lottare. Più impegnativo il pomeriggio con la luna in sesta casa, che sotto il peso di Saturno segnala stanchezza è una sensazione di freddo nelle ossa. L'umidità novembrina oggi lascia il segno. Amore ed eros. Il sentimento vi sorride anche se scisso dal mero piacere erotico, insomma cuore e sesso viaggiano su binari divergenti. Vorrà dire che il treno dell'amore viaggerà sull'uno o sull'altro, tutto in una volta non si può avere. Momenti di malinconia ripensando al quattro zampe che un tempo viveva da voi, rallegrando l'atmosfera di casa. E allora perché non azzardare un replay accogliendo un cuccioletto? Dal paradiso canino o felino il vostro beniamino di sicuro non si offenderà. La vostra governatrice ideale, Venere, vi assiste potentemente Venere in congiunzione, dandovi la possibilità di mettervi in ascolto delle esigenze della persona amata con particolare sensibilità e dedizione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 30 del mese di settembre. Saturno, l'altro vostro nome tutelare, transita neutro in pesci, ma pure in un aspetto celeste armonico vi dona il tempo necessario che ci vuole perseguire e comprendere le ragioni altrui cercate di fare in modo di ottenerlo. Lavoro e denaro? Soldi, oggi hanno importanza, più che altro quelli che spendete per la spesa o per una giusta causa, chiudendo un occhio sulle cifre che restano sul conto. Fortunatamente una scorticina c'è ancora ma avanti di questo passo. Non si sa quanto durerà. La speranza è riposta in una vincita, con i numeri che ogni tanto dei fonti bisnonni e prozzi vi inviano in sogno. E allora che aspettate a giocarli? Pesante anche il lavoro, ma di martedì è cosa trita e ritrita, con l'agenda settimanale ancora tutta da avviare e bella forza che stasera a casa ci arrivate spapolati, sarebbe difficile immaginare il contrario. Benessere. Non mangiate molto, ma lo fate troppo in fretta e così il senso di sazietà dura poco e vi viene subito voglia di uno spuntino. Occhio anche alla gola, che con l'umidità si fa subito più delicata. Lo stesso vale per le articolazioni, specie se avete già aperto qualche anta, età ed autunno non vanno d'accordo. Per lei, preoccupate per snopi che ha l'aria mogia e sofferente, rifiutando perfino le sue crocchette preferite, no, non sta male, non fisicamente per lo meno. La sua è la crisi di abbandono del martedì, dopo il weekend passato con voi lasciarvi andare lo strugge. Per lui, raffreddore o bu al pancino? Quanto è premurosa la vostra lei, vi serve il tè a letto con la fetta biscottata, vi aggiusta le coperte, vi prova la fembre. Oggi il ruolo del malato vi si addice, dopo il weekend spericolato riposare vi farà un gran bene. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.